Ciao viandante, c'è vento oggi in montagna, eh sì perché sono su Monte Razzano, Monte Razzano è la montagna di Campagnano e panorama, che vuol dire panorama? Tutte le volte che tu ti troverai a vedere da un posto elevato un sacco di cose ti troverai di fronte a un panorama, deriva dal greco pan, tutto, orao, vedo, posso vedere tutto ed effettivamente da qui è proprio così, si vede tutto, allora io adesso sono rivolto verso il mare e tra me il mare che vedo c'è il lago di, eccolo qua, il lago di Bracciano si vede, qui dietro si vede il mare ma se mi giro sotto c'è tutta la valle di Baccano e dall'altra parte del monte sull'altra costa c'è tutta la valle del Tevere vedo il monte Sorate, dietro tutti gli appennini, la sabina in mezzo e se guardo verso nord vedo tutta la tuscia, i monti Cimini vedo, vedo, insomma, da qui vedo tutto, l'unica cosa che non si vede piùissimo è verso sud perché la cima del monte è occupata da un'antenna dell'ENAV per il controllo del traffico aereo però, insomma, ci dobbiamo anche un po' accontentare, è un posto straordinario ma quanto stiamo da Campagnano? Due chilometri certo, c'è un salto di quota di circa 200 metri è una bellissima camminata che si può fare una scalata del monte Razzano a Campagnano fermati con noi, vieni a provare questa esperienza ciao